Un insediamento arrivato a distanza ravvicinata dalla nomina a prefetto della città scaligera, quella di Donato Caffagna, che torna nel nord dopo aver ricoperto in passato l'incarico di capo di gabinetto a Lucca, successivamente impiegato nella prefettura a Bari con diversi incarichi, coordinando anche il gruppo di studio per la redazione della legge regionale sulle vittime della criminalità e del racket. Tra le sue priorità ora quelle di creare forte empatia con il territorio, cercando di essere presente in città e nei 48 comuni della provincia per continuare ad assicurare un alto standard di vita ai veronesi. Io mi sposterò non soltanto nel capoluogo ma anche nei comuni della provincia in modo da avere un confronto con la cittadinanza, un confronto con i sindaci e mia intenzione è quella di costituire dei gruppi di lavoro presso gruppi di comuni in modo da individuare insieme un piano d'azione per migliorare se possibile la qualità della vita dei cittadini in materia di sicurezza e non solo in materia di sicurezza. Penso alla viabilità, la sicurezza della viabilità, penso ad altre tematiche che possono interessare i vari territori. Si è parlato di immigrazione, sicurezza pubblica, di attenzione ai luoghi di stoccaggio dei rifiuti per preservare la tutela ambientale e di prevenzione e repressione ai fenomeni di infiltrazione e presenza delle mafie al quale verrà dato un'attenzione particolare. È chiaro che dove esistono grandi risorse economiche, dove esiste la possibilità di inserirsi e sfruttare queste risorse per deviarle verso l'illicità, dove esiste la possibilità di ricercare, di reinvestire risorse nell'economia, c'è l'attenzione da parte della criminalità organizzata. Bisogna lavorare per la repressione ma soprattutto per la prevenzione e in questo è importante il rapporto che si va a creare con le associazioni di categoria, con le organizzazioni sindacali, con i sindaci e dobbiamo tutti quanti lavorare perché il tessuto sociale e istituzionale sia coeso e sia refrattario a qualsiasi tentativo di infiltrazione. Del resto la popolazione veronese è una popolazione che ha un grande senso civico e questa è una garanzia.